Dal 2018 stiamo revisionando la toponomastica nelle nostre frazioni con l'obiettivo principale di facilitare il rintracciamento dei diversi edifici perché i toponomi precedenti delle nostre frazioni vedevano la presenza solo del nome identificativo della frazione e del numero civico però uno sviluppo disomogeneo proprio dei numeri civici portava a una difficile identificazione delle abitazioni in particolar modo ma anche delle aziende sono diffuse nel territorio. L'operazione sta procedendo bene in modo spedito ed ora divenne ufficiale la nuova toponomastica della frazione di Piantravigne in ogni frazione anche in quelle precedenti abbiamo condiviso e concordato con gli abitanti i toponomi accogliendo sia quelle che erano le indicazioni che si erano storicizzate per esempio a Piantravigne abbiamo una via che si definisce le Muricce proprio sul consiglio degli abitanti perché era di uso chiamarla così abbiamo però anche le indicazioni di toponomi che ricordano persone che sono state particolarmente significative mi riferisco per esempio a Don Turinesi che è stato un parroco di Piantravigne che ha contribuito anche alla realizzazione di quota parte della chiesa oppure a Giovanni Bassan che è l'autore dell'affresco che è contenuto proprio nella chiesa di Piantravigne quindi da oggi è ufficiale la toponomastica ringrazio per il lavoro svolto l'ufficio e per la collaborazione nella cittadinanza